100 allo stacco in partenza è veloce Reginetta Alca che si avvantaggia e passa a condurre in poche battute superando Rumba OM a largo rimane Renzo Rosso Trebb che poi si sistema a terzo la corda avanti a Raio di Ruggi segue poi Roby via via tutti gli altri sposta nuovamente all'esterno però Renzo Rosso Trebb va su Reginetta Alca e la rileva al comando dopo 300 metri di gara in quarta posizione rimane Raio di Ruggi a precedere Roby via via tutti gli altri intanto il quarto iniziale in 31 e 1 Roberto Vecchione ancora leader dopo 500 metri di gara c'è la mossa esterna da parte di Raio di Ruggi Raio di Ruggi avanza a largo dopo 600 in 48 avvicina il leader Renzo Rosso Trebb poi però ha un'incertezza forse va a sbattere contro il sulchi del numero 2 Raio di Ruggi squalificato così in quarta posizione si ritrova Roby avanti a Racing Wind poi gli altri a chiudere intanto 1-3-6 passaggio agli 800 con Renzo Rosso Trebb sempre leader su Reginetta Alca se ne va così il chilometro in 1-19-7 terza posizione per Rumba OM esposto all'esterno a 550 dall'arrivo nella sua scia prova andare Roby poi Racing Wind numero 4 Reginetta Alca squalificato in seconda posizione passa Rumba OM seguita da Roby poi c'è la mossa di Racing Wind all'esterno alla corda c'è Raider Fjord che precede Rolex Winner siamo sulla curva conclusiva in vantaggio è Renzo Rosso Trebb nella sua scia Rumba OM poi spostano Roby e Racing Wind retta d'arrivo con Renzo Rosso in testa Rumba OM che prova a seguirlo a centropista lo scatto di Roby di Racing Wind poi all'interno anche Raider Fjord ultimi cento di gara con Renzo Rosso Trebb che si isola in avanti la lotta per il secondo vede emergere a centropista Roby che ha ragione di Racing Wind e di Raider Fjord proteso all'interno 1-19-6 con 31-9 a chiudere raddoppio immediato per Roberto Vecchione e Olga Ereller a segno nella prima sul doppio chilometro con Red Mile Font a segno ora sul miglio con Renzo Rosso Trebb quota di 2,64 da favorito per il vincitore grazie a tutti